Sidi, innanzitutto come stai? È stato un inizio di stagione particolare per te perché è stato qualche problema fisico? Sì, infatti dall'inizio è stato un po' difficile per me perché sono allenato tre giorni e poi ho avuto dei problemi fisici, però adesso mi sento molto meglio e sto allenando bene con la squadra. Che gruppo hai trovato? Ne abbiamo parlato nel giorno della tua presentazione, siete tanti ragazzi nuovi, come ti stai inserendo in questo gruppo nuovo? In pratica io dall'inizio mi sono trovato molto bene con il gruppo, che sia con i più grandi e i più giovani. Mi hanno messo al mio accio e mi sento molto bene con loro e siamo come una famiglia diciamo qui. Si è stato convocato per il match di Foggia, è arrivata una sconfitta nel contesto forse della miglior prestazione stagionale della squadra? Sì, infatti abbiamo giocato una bella prestazione ma purtroppo abbiamo perso, però diciamo che la squadra ha risposto bene e speriamo che la prossima possiamo fare meglio. Cosa pensi dei tuoi compagni di reparto Ardemagni e Gans? Il primo dopo il brutto infortunio sta lavorando sodo per tornare subito a disposizione nel più breve tempo possibile e Gans dopo un lungo periodo di astinenza è tornato al gol. Sì, infatti io sono veramente molto contento per Gans di tornare adesso e di fare gol, ma per Ardemagni purtroppo è stato un po' difficile per il gruppo, anche per lui. Ma in quel momento stiamo tutti vicini con lui e diciamo che è un valore aggiunto per la squadra e purtroppo è una perdita per noi, però è un problema che torna il più veloce possibile. Non manca la concorrenza in attacco ma questo lo sapevi. Come ti stai trovando e come ti stimola a allenarti con giocatori comunque forti come Ninkovic, Rossetti, lo stesso Gans e poi tornerà Ardemagni? Per me è un grande privilegio di giocare con Ninkovic e anche con Ardemagni perché sappiamo tutto che sono dei grandi campioni, pure Beretta, Gans e Kavion, diciamo che è una squadra veramente impressionante e mi sento molto bene con loro. Quando sei arrivato il mister stava provando il 3-5-2, adesso siamo passati al 4-3-1-2. In questo modulo dove ti puoi inserire come attaccante, quindi una delle due punte, potresti recitare anche il ruolo di trequartista? No, per il momento io sto giocando come i punti centrali, come me lo sta chiedendo il mister. Diciamo che non lo voglio mettere in difficoltà e da lì mi trovo molto bene perché diciamo sono un esterno e posso fare pure questo ruolo e mi sento molto bene anche questo ruolo, mi trovo bene. Il mister chiede molto, vedendo gli allenamenti a voi attaccanti, vi chiede di passarvi spesso il pallone, di dialogare spesso, vuole un gioco molto armonico e continuo tra gli attaccanti? Sì, infatti il mister è un mister molto bravo, l'abbiamo visto anche nel passato con tutte le squadre che passano, Teramo, Empoli, quindi noi stiamo lavorando giorno dopo giorno e vediamo che la squadra sta crescendo molto. Tra dieci giorni il match interno con il Carpi, secondo te dove può arrivare quest'Ascoli? Perché guardando le prestazioni forse sei punti in classifica sono pochi? Sei punti sono pochi, però noi abbiamo visto che la squadra sta crescendo partita dopo partita, abbiamo visto pure la partita contro Forcia, diciamo che la squadra sta giocando molto molto bene, quindi penso che ci stanno alcune cose da lavorare, da mettere a posto e vediamo che i risultati arrivano.